L'onorevole Valeria Valente del Partito Democratico e organizzatrice di Rifare l'Italia ha presenziato appenne al convegno organizzato dal locale circolo dell'EPD sulla riforma costituzionale. Una riforma attesa da anni, una riforma volta ad alleggerire l'organizzazione dello Stato, a fare un'organizzazione in qualche modo più funzionale alle esigenze dei cittadini e dei territori, soprattutto il modo per garantire i tempi adeguati nella formazione delle leggi, procedimenti legislativi più veloci, più rapidi e direi una risposta anche di credibilità e di serietà della politica che si era impegnata ad arrivare a questo risultato e ha mantenuto l'impegno preso con i cittadini. Sì, è una svolta epocale, credo che dopo tantissimi anni c'è una modifica sostanziale a questo bicameralismo perfetto che comunque conserva il ruolo del Senato e dei senatori con una forma diversa. Questa sera noi più che altro analizzeremo questi aspetti, queste modifiche epocali e le ripercussioni che avrà sui comuni, sulle province e quindi sui territori. Ognuno di noi proverà a dare il suo contributo e dare anche qualche suggerimento perché come tutte le svolte, come tutte le soluzioni epocali come queste, ovviamente soffre di alcune ripercussioni che poi danneggiano e vanno a colpire la qualità dei servizi sul territorio. Grazie.